Eccolo, e adesso faremo il video del sorteggio in collegamento audio, dopodiché verrà tutto rinviato a tutti i partecipanti, è una cosa incredibile Io comunque mi posso sempre collegare tramite videocamera e con MSN a Gabri Sì, diventa un intreccio clamoroso, arriviamo oltre l'idiozia, Yuri ti sento malissimo Eh, ma la cosa audio a 3 si può fare solo su Skype Io voglio il web, voglio il video Ma guardi me che inquadro uno schermo? Scusa, ma è inutile No, voglio il diretto, non mi interessa con tutti i lavori Aspetta, Gabriele, ma tu puoi aprire due conversazioni con due webcam? No No, ma la cosa che Yuri non capisce è che se guarda me e non guarda lo schermo, cioè è uguale a sentirmi in audio Perché con la webcam lui guarda a me e inquadro lo schermo Perché non lo facciamo più al modo tradizionale Eh, perché lo sto facendo col software Visto che io in periodo ne farei anche un turno, non posso stare a sentire voi Perché no? Tanto è una questione di pochi minuti E allora non ci sentire, faremo solo io e Federico Vabbè, comunque c'è Gianni Criocchino che ora spiegherà le modalità del video Eh, ma io adesso sono molto semplici Adesso apro il software, inserisco i giocatori che Federico mi ridetterà nuovamente con dei ranking E darò un click I due gironi che escono sono i gironi del torneo Ok Non è molto difficile Adesso stiamo aprendo il software fornitoci dalla Federazione Italiana Sport Calcio da Tavolo Che non è FIFA ma è Subuteo Ok, Federico adesso mi devi ridettare i nomi Sì, allora Pascia 1 Yuri Numero 1 Salva E Federico Numero 2 Salva Poi 2 Mec e Jacopo Ma cosa stai scrivendo? Mec Numero 3 Salva Jacopo Se mai lo scrivo bene Salutiamo comunque chi ci seguirà dopo nel video, eh Salutiamo, salutiamo Poi io e Michele, vero? Sì E vai Non selezionarti come io No, no, ho messo Gabrioc, pensa Io voglio essere pensato come Guate No, ti ho messo Yuri Anzi Anzi Yuri che prende l'anzi, lo ricordiamo anche qua E Simone Alessio 7-8, vero? Simone Alessio, esatto Leva tutte le spunte varie Sì, eh, queste sono difficili da sistemare Alessio Che l'ultima volta Abbiamo fatto un macello Sì, allora Ordinato in base al ranking, ok? Sorgire di 4 giocatori Sorteggio anche per testa di serie Ok, posso cliccare? Aspetta Aspetto che? Ecco Aspetta, inquadro la lista ordinata per ranking Che non si leggerà bene Ma si leggerà più o meno, ecco Siamo pronti? Ma aspetta che? Ah, vabbè Sì Vabbè Aspettiamo sta fine Che sta buffonata Ok Eh, per favore Sì, sì, sì In effetti era necessario Sono d'accordo Poi i campioni dei chemo Devono spiegare Vabbè Ok, sì Buonasera a tutti Sì, ma basta cliccare È finito Cosa welcome? Qualcuno sta scomparendo? Federico Federico, beh, vedi Skype l'ha rigettato Per manifesta idiozia No, Yuri Federico Io non ti sento Come non mi sento? Ora sì Possiamo? Eh? Posso? Vado? Ma io sono sempre quella prima Ma posso? Posso Sì Vado Ale Primo girone Yuri, Gabriok, Mech, Alessio Il secondo girone Federico, Michele e Jacopo Simone Che schifo Diciamo che Federico È stato un attimino fortunato E non mi si dica Che faccio l'impiccio Che schifo Va bene Con i commenti Di Yuri Chiudiamo questo triste video A tra poco per il calendario Non date i risultati Su Facebook Mi fate veramente schifo Eh, mi fate Lui, io che centro Ah, ciao a tutti Sì Sì Sì